Venerdì 30 giugno, santi primi martiri della Santa Chiesa di Roma. È il 181esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 184 al termine. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 21.03. La luna si leva alle 12.40 e tramonta a mezzanotte e 37. Emanata una legge dal maggior consiglio sull'ordinamento della marineria civile. È la prima legge sulla navigazione di cui si sia conoscenza. Il patronus, capitano, deve avere almeno 30 anni. Entro un mese da ogni attacco a Venezia si deve provvedere alla radicale revisione del bastimento e alla regolarizzazione dell'ingaggio dei marinai, che non può avere durata minore di un anno. I marinai non possono andare in licenza senza permesso. Pena 5 soldi di multa. Le previsioni per domani. Tempo variabile a tratti instabile con addensamenti più consistenti sulle zone centro-settentrionali e schierite più frequenti su pianura e costa. Probabili precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane e nel pomeriggio anche su parte della pianura, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza variazioni di rilievo in pianura, in leggero calo in montagna. Massime, stazionarie o in lieve diminuzione.